Conte Duku, capitolo 2, il riscatto. Anakin Obi-Wan sono tenuti prigionieri dal vile Ondo. Maledetti, non è vile Ondo. È la sua banda di pirati spaziali su pianeta Florum. Il senato e l'alto consiglio Jedi si riuniscono per decidere chi devono mandare a negoziare la liberazione dei Jedi, ma i subdoli pirati hanno in mente un piano diverso. Ecco l'Ondo, che bello! E Palpatine! Ancora non si era visto. È vero ragazzi, questa è la conferma che Jar Jar è il capo Sith. Lo ha scelto Palpatine! Pensate che Jar Jar effettivamente è più importante dei cloni, quindi loro non devo rispettare la sua autorità, perché è un senatore. Ah, tipo quelle di Naboo, per caricare. Ah, tipo con Jar Jar effettivamente devo scendere in battaglia. Andiamo Jar Jar, bene! Hello, ver, benvenuti! Vai Jar Jar, puni, usa la forza. Fammi vedere che lo so che sei più forte di Palpatine. C'è i pugni nelle mani Jar Jar, bravo! È un Sith ragazzi, per forza. Avevate ragione. Dart Jar Jar, complimentoni! Allora, ma Ondo Naka qui ha di tutto, ha di ogni. Ma io devo distruggere quegli scudi, non questi. E mi servirebbe una mia base. Utilizza questi siluri. Ok, i siluri sono là. Come li uso? Jar Jar, prendilo a pugni. Grazie mille! Disintegralo. Sei più forte dei cloni, Jar Jar, sei una cosa epica. Non pensavo, ma hanno messo livello con Jar Jar. Bravi. Hanno usato. Utilizza questi siluri per distruggere. Ma io senza un Jedi, senza un mezzo. Come li utilizzo? Questo qui dà lo scudo all'altro. Ah, è salito, bene. Mi tolgo lo scudo, te lo levo. È agilissimo, grande! Io glieli posso rubare, secondo voi, questi? Lo l'ho distrutto, ottimo. Ah, è sceso, buono. No, 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 quasi lo distruggo. Questo però non andrà a siluri, è uno speeder bike. Ah, può, ottimo. Non posso passare dentro, infatti. La leva. No, me l'ha ripreso, però. Uno su cinque, lo distruggi. Devo capire come si ruba. L'avevo rubato a caso. Forse con l'MP. È sceso. Me lo dia. Preso e fuoco. Alle polveri. Mi scusi, eh, ma... Di nuovo. Cosa fa questo? Ah, è andato. Va bene. Ci siamo riusciti, ma... No, me lo portano via. Maledetti. Hanno il vizio di portarmi via il veicolo, eh. Comandante Stone, serve... È un veicolo. Andiamo a tirare la leva là. Carichiamo alla riscossa. Ah, gli animali passano, infatti. D'accordo. Allora... Nooo. Sono sfortunato. Qualsiasi cosa io usi... Nel giro di premere il tasto per salire è già distrutta. Voglio vedere... Ecco. Voglio vedere se caricandoli con questo loro scendono, tipo. È sceso. Ah, ecco come funziona. Ho capito. Acceleri. Un veicolo di una velocità impressionante. Ah, maledetto ha lo scudo esterno. Ha più protezione di quanto pensassi. No, che cos'è? Ma sono io che chiamo la nave. Perché se sono io a chiamarla, ragazzi... Spero di no, perché se sono io a chiamarla... Non avrei parole. Vai in teckel e scivolata. Con il rischio imprevisto che mi stuccano il ministro. Dai! No. Sono su in qualche modo. Scenda. Mi dia la speeder bike. Grazie. Preso. Serve più di un colpo. Ok. Ah, perché dà energia agli altri. Ecco là. Due. E direi un terzo colpo. Mistero che cosa capiti. Resiste ancora. Mi stai facendo sudare, eh? Sei solo una torre, ma... Ok. Non c'è più. La terza. Dove si trova? No? Stavo per volare giù. Oh, mini kit. E l'hanno richiamata. Perfetto. Uno è andato. Mi servono, però... I siruri che sono qui. Che cosa mi stai facendo con questo filo? Ma sei tu che li chiami in questo modo? Non mi è ancora chiara questa cosa qui che mi rubino il veicolo? A cosa sia dovuto, eh? No, l'ho disintegrato troppo irulento. Vai. Due. Dai, prima che lo richiamino alla base. Terzo. Ed è andato. Ce l'abbiamo fatta. Poverino, è rimasto lì un bel po' Anakin, eh? Eh, mi sa che non è sua quella spada. Meno male che Qui-Gon salvò Jar Jar. E Kenobi? E' un bel po' di chi? Ma Hondo si è visto soltanto in ologramma e basta.